Il gelato di oggi, sorpresa sorpresa. Ha speso 20 euro, e ne ha speso 6 milioni. Guarda Maria dei gusti. Guarda che colori. Ma che gusto è questo? Che bello. Adesso scambiamo. Io mangio il mango. Lei sceglie i gusti? C'è una specialità che si chiama gelato. Questo? E poi? Gosti, ma tanti. Skylar sceglie i gusti? Ma questo qua cosa è? Assaggio. Biscotti. Sì. E cosa? Anguria c'è anche. Anguria eh? Anguria? Eh sì, è quella rossa. Questa poi anguria. Anche anguria. Poi anguria? Agusto, sceglie i gusti? Io niente latte. Niente latte. Niente latte, allora ti va bene le cose di frutta. Mango. 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 Mezzo, mezzo. Mezzo? Eh, mezzo così. Meloni. E poi cosa? Come è buono? Non è buono, non è buono, ma è buono. Anguria a posto sotto. Basta, grazie. No, che basta. Sì, sì. Adesso manda. Veniva. Un anguria. Voi l'avete assaggiata. Ok. Che vuole metà? C'è il gusto, Pietro.